Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo di nuovo su Dying Light 2 e questa volta non siamo in live su Twitch ma sto continuando per conto mio in quanto ho sospeso da questo momento in poi ora non so quando verrà pubblicata questa puntata ma ho sospeso praticamente la produzione del contenuto in live su Twitch e ho deciso per varie motivazioni che avrei continuato la serie su Dying Light per conto mio e quindi l'avrei registrata e poi successivamente pubblicata sul canale. L'ultima volta ce l'avamo lasciati con la proclamazione dei nottambuli della nostra amica di cui non ricordo il nome perché è passato veramente tanto tempo dall'ultima volta che ci ho giocato quindi purtroppo mi dispiace e questa è la nostra situazione attuale. Abbiamo scoperto gran parte della mappa, abbiamo un paio di side quest che farò successivamente per conto mio, abbiamo diverse zone che qui ancora dobbiamo esplorare e che dobbiamo assolutamente inquadrare all'interno della mappa però oggi dobbiamo dirigerci verso Veronica. Veronica che è una dottoressa a quanto pare del GRE che avevamo conosciuto già all'inizio del gioco e che adesso finalmente potrebbe avvicinarci a quelli che sono gli indizi per ritrovare la sorella. Quindi iniziamo a fare strada ovviamente e cerchiamo di vedere un po' cosa fare all'interno di questa missione o comunque in generale all'interno di questa di questa parte di gioco. Per quanto riguarda il resto ovviamente c'è poco da dire abbiamo comunque un buon equipaggiamento abbiamo anche un buon level up per quanto riguarda ovviamente la nostra la nostra build se così vogliamo chiamarla perché comunque siamo messi abbastanza bene l'esplorazione mi ha aiutato nella maggior parte delle mie esplorazioni e nella maggior parte ovviamente delle quest che ho concluso quindi non ho bisogno né di livellare né di fare altro farò soltanto le side quest poi per conto mio giusto per passarmi un po' di tempo senza senza annoiare dato che le side quest comunque non sono un contenuto principale e quindi abbiamo la possibilità di continuare la nostra avventura. Siamo passati in mezzo ci stiamo avvicinando alla zona di incontro bello viaggiare col deltaplano qua con paracadute. Molto figo ok ma il problema è che ora qua io però eh il problema è che io ora sono arrivato qua alla diga ma ok qua possiamo salire c'è forse una casa qua si eccoci è... tu helpi i peacekeepers sì ma solo solo per arrivare qui Ator è cercato di fare qualcosa di buona in Vellador ma il tuo il amico di Bizarre e Pique è troppo forte è diventata di un caccio e questiоре raccogli? perchè sono dopo voi? probabilmente il proprio motivo di voi di accessorare il ribaltiere cosa vuoi materiale dade? perché vuoi rischare molto? molto I'm looking for information about Waltz The GRE found out that he was conducting Unauthorized experiments What do you want with him? His experiments were on kids And I want to know why he did it Did you know about that? I was only a mid-level doctor, Aiden I'm sorry Want to know anything else? Or can we go? Why are you helping me? Are you looking for something in the database as well? Aiden, those vaults contain my organization's biggest secrets I almost died because I was a part of it I need to know what they were hiding What if you don't like what you discover? Nothing ventured, nothing gained How did a GRE doctor wind up at the bazaar? By not letting anyone know I was a GRE doctor After the revolution, the GRE were blamed for the disaster Personnel were rounded up and executed People used revenge to relieve the pain Doesn't matter if it doesn't work What happened, happened Now I'm someone else How are you planning to get us inside the observatory? Look There's a security tunnel into the complex It was locked up years ago Give me the key, Aiden Are you sure the key is functional? It has been Maybe the problem is that the building has no electricity Is there any other way to get in there? It depends how much we're prepared to risk A lot, if you ask me Ok, then come with me I have something to show you La faccenda si fa Un po' più interessante Tra l'altro si è fatta notte Madonna, già è arrivata lì? Madonna, un fulmine Una saetta proprio La faccenda si fa I have a feeling they'd come in handy one day Oh, those must be worth a pretty penny They are extremely rare For now, we will need only one For you You're not coming? No, I will join you, but First, I'd like you to restore the power to the building You see, I have panic attacks When I'm in tight spaces or in the dark Now you probably think I'm a coward Not at all I think it took guts to come here So let's do this When you get there First, restore the power Then I'll be able to join you Hold out your arm Remember, the shot shields you from the chemicals for a limited time only Can't I take the other one too? No, not at the same time This stuff's too strong Go as fast as you can to the smaller dome And from there to the higher one You should find a door leading inside There You'll be safe Then head to the B block There you should find the building's main circuit breaker As soon as you turn on the electricity The security door will unlock And I can join you by going through the tunnel I showed you Now go The blocker is working Certo, io la parte dove devo sgobbare Lei invece The blocker is working Certo, io la parte dove sgobbare Cenere e macerie Trofeo guadagnato Veronica I made it through the chemicals to the first dome Great Now just get to the second one Find a door, a hatch or whatever leads underground Right Problema è che però lì Anche se dovessi usare il rampino Come faccio? Ah ecco c'era qua la soluzione Ok Ma qua non c'è niente Tipo registrazioni o cose Arco di chiodi Siamo riusciti a entrare Però Posso sbloccare la porta Veronica? Ah leh I have a horde infected here Shit I hoped it would be empty by now Well it isn't I don't know if I can get through Use the UV flashlight on your belt That you keep them at bay Just don't stop Aiden Ok Eh non mi ricordo come si utilizzava la torcia UV If he yourself Oh man Dusan Ah Dude Oh man Ah 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 Guarda questo quant'è Centro abbronzatura Ma perchè quella stamina mi si consuma così velocemente? Mamma mia, allucinante Ehi Guarda mia, mi son cagato Non è normale che ho le lampade UV che me le sono craftate Guarda mia, allucinante Eh, il fatto è che mi fanno sti attacchi così infami Che ti si buttano addosso Ma poi si buttano in un secondo, proprio un secondo Si buttano in un attimo Ma questi per principio Ti voglio buttare giù Ok E qui? C'è la corrente, giustamente C'è la corrente? Questi qua, tipo Mezzi scheletrici Ok Sono tutti scienziati qui, ovviamente Oh, ma guarda che pezzi di merda Ma guarda Guarda che roba Oh, ma guarda che fanno queste prese Così a caso Anche perché giustamente poi li devi buttare giù Perché altrimenti Ti rompono Ti rompono le scatole Devo collegare i cavi Non, ma guarda che fanno ecco è vero che è vero un fuso, guarda. Faccio qualcosa, rapido, por favor! Non preoccupare, farò lo riuscite. Por favor, non mi lasciare qui. Non mi preoccupare, ho bisogno di un momento. Non mi lasciare, non mi lasciare! Oh, oh my god! Por favor, por favor, lasciami fuori! Sì, ma come lo devo fare? F***! Aiden! Facci qualcosa! Lasciami fuori! Sto lavorando. Solo lasciami fuori! Lasciami fuori! Non sto sulle mani qui, Veronica. Cosa di respirare, lentamente. Oh, oh! Non mi lasciami! Solo, non lasciami qui! La scuola non farà nulla, solo attraverso l'infecto. Sì, calma. Non ti lasciare. Veronica, il potere è tornato, sei ok? Veronica? Vi metterò con gli elevatori. Vediamo che è successo. Oh, la scuola è svenuta. Oh, la scuola è svenuta. Questa è la scuola di qui? Si, ho detto che tutto sarebbe funzionare. Poi... ... Hai sempre stato claustrofobico? Seriosamente? Per più di 10 anni. Quindi cosa succede allora? Aiden, per Dio! Non possiamo parlare di questo ora? Il database... dove è? Dicami un momento! Non parliamo di questo! Se parlo di altro non va bene! Anche più più di questo? Un altro 6 luci sotto. Questo è abbastanza alta. Prima del G.R.E. Questo complexo fu fuori dalla militeria. Lo usavano per monitorare le risposte, attacchi di attacchi, questo tipo di cosa. Questo è quello che si chiamavano l'Observatore. Poi il virus è arrivato, e questo è il fine. Quindi cosa succede qui, in fine? Noi, il G.R.E. L'Observatore ha perduto la situazione, e tutto ciò fuori all'Observato. Tutto è scoperto. L'Observatore è stata scoperto. Perciò il militero ha avuto questo posto prima del GRE? Si, era un bunker di confronto in guerra. Un guerra di guerra? Un periodo nel ultimo secolo. I guerri in tempo erano in una scala più grande. Non era solo un'attività di giorni, come avere abbastanza di acqua, luci di luci e scopri di alimenti. In modo, però, era proprio come ci sono ora. Ora, le persone vivono ogni giorno, in constant fear. È abbastanza la storia. Si chiamano i miei locali come questo, Vittorio della storia. Great. Di nuovo. Aspetta. Ora provo a cercare qualcosa. Io non sapevo che qua dovevo collegare... C'è il complesso di generatori. Tipo, qua c'è il coso A, però... Forse posso salire di qua? Non mi pare. Ah, da là forse posso salire. Sì. Da qua posso salire. Ok. E da qua si può passare. Da qua si può passare. E adesso... Esatto. Siamo tornati indietro. Quindi da qua... Sicuramente dovevo portare il cavo... Siamo tornati indietro. Oh. Da qui non c'è nulla di interessante. Da qui non si può andare. Beh. Dovrebbe... Dovrebbe... Dovrebbe trovarsi... In questa zona il... Qui ci vuole la chiave del GRE. E penso che sia per attivare tutto. Quindi... Dove devo portare la corrente? Forse da questa stanza posso passare... Esatto. C'è l'apertura. Posso passare l'altro lato. Vabbè classico puzzle... Diciamo tra virgolette. esatto vedi qui c'è la cosa quindi qua dobbiamo aprire ah ecco perfetto abbiamo attivato tutto sì let's get this over with and then get out of here this way the main computer is there maybe you'll find out what waltz was up to finally will that change anything here and now everything it might help me fun to find something I've lost without it I don't know you don't know what well I don't really know who I am we're all different people than we were 15 years ago we all got lost it's here it's locked again no the terminal is inactive the security system isolated this area I guess I'm up I've got an idea try to find the officer's room there's a security desk we could try to operate the door locks from there you should be able to use your GRE key on it please just insert the key and select emergency unlock on the screen I'll explain everything to you when we're done yeah but we may have another problem I'm stuck here I need to find a way out can I help you somehow I don't think so just stay where you are here intanto ci sono dei bei forzierucci e noi ce li prendiamo male dai ma porca allora si da qua si può salire e mi sa che devo rifare la stessa strada questi infetti sono spuntati da non si sa dove o forse questa è un'altra stanza non ha le granate non fanno un cazzo di danno non fanno niente di danno si mi sa che questa era comunque un'altra stanza non si gira vedi c'è ora si prima no ora si eppure non ci sono altri altri condotti forse la posso aprire di forza no ma ecco da qua eh non l'avevo vista direttrice dipartimento di lei non era esatto meno male che non sono stato onesto con lei certo non è a show for it sure we were five for fuck's sake small children showed natural immunity to the virus we saw a correlation between age brain development and infection severity that's why they were experimenting on you the gre the world needed you you seemed our only hope i'm sorry was it worth it i mean did you even come close to a cure we were close but the virus it finally reached the complex so were you involved in those experiments no the tests on children were all performed at a laboratory here we were gathering data and compiling research i was here when it all happened team members began to turn and things quickly spiraled out of control one by one we were locked inside hiding sneaking around through those dark corridors and ventilation shafts my son he was here with me paul he was five back then too what happened to him i managed to find the shaft leading to the main entrance i told paul to wait for me i kissed him and i told him to wait until i made sure the entrance was safe he clung to me didn't want to let me go when i came back for him he was gone i was only away for 15 minutes i spent the next week looking for him and then the rest of my life crying i should have known he was a kid scared alone i'm sorry you were trying to take him out of here how could you know anyway we all have our own stories of the past let's concentrate on what happens next okay let's go it's finished all the tarallucci and vino it's not bad that we didn't tell the truth we always do not trust me so uh who going in hope you find what you've been looking for all the giant is data isn't there they didn't Cosa è? Dammit, non lo so! Proviamo di nuovo! Si è iniziato! F***erò, andrò! Sono finito di aspettare! È ora per le risposte! Infection is protected! Veronica, cosa succede? Talk to me, Veronica! Sei ok? Decontamination procedure? Decontamination procedure? Non è bene! Decontamination è morto! Ma come parliamo? Non lo so! Veronica? Veronica? Remain calm. Veronica? I can't stop it! Do something! I'm thinking! So think faster! Blockers! I still have one! You have to find one for yourself! Any idea where to look? The control room! Maybe they kept some there! Go! Find the control room! Decontamination procedure ready to begin! Find a way up! Hurry! Control room! Upstairs! Di qua! Come cazzo ci arrivo là? No! 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 Eh vabbè qua Crepiamo Poi comandi che non rispondo Madonna che palle Sì vabbè Eh vabbè Non si aggrappa Non fa Cioè Da ma di che stiamo parlando Eh sì Find a way up Cioè mi arrampico e non si aggrappa Ecco Cioè non era difficile però Se i comandi non rispondono Aiden Aiden You all right Yeah Yeah I used the blocker Thank God I think we're safe now That's good to hear Ready to plug in Are you serious Yeah do it Cross your fingers Aiden The moment of truth Damn It's broken Oh no You shit me Yeah I am It's just an old system Wait Give me the key Authorization granted There is a list of patients and personnel Who do you want to check first? Search for Mia Who is that? She's my sister She's my sister One of Waltz's test subjects Nothing Impossible She was there With me I'm searching Sorry Aiden Records show no patients named Mia It's impossible I will check my name Aiden Aiden There's one record Among the youngest children Year 2020 Aiden Caldwell Is that your surname? Well it is now What does it say? Data classified Only one note Warning Patient shows An above average tolerance To the substance Most tests performed Infatti posso Mi posso quasi trasformare Aiden Are you okay? Yes I think so Is there anything else? No That's all Waltz Checking One record Clinical studies Substance 1354 Study abandoned All patients discharged From the center Look through all the names Patient discharged All of them Yes Dammit No info on where they ended up Or about this substance 1354 La 1354 E' quella che cercava Waltz Era 13 e qualcosa Allora la chiamavano The substance was also tested On some infected At GRE facilities Across the city To no avail The project was run And supervised From X13 It was eventually Shut down As was X13 Like X13 Do you know even more About this X13? In here? I doubted But I heard about it X13 was a hub Of GRE operations And the substance Do you know what it is? There were so many tests And clinical studies Aiden Let me search the database For the research data Something's wrong What do you mean? It says a procedure's been initiated Another procedure? I'm looking Lots of data Started then paused Eleven years ago Resumed a few days ago In X10 There's also a map Several locations are marked Including the observatory What the hell does it all mean? I have no idea But Intruder alert Intruder alert Infected? They must be here They must have followed us There's no time Hurry Take the key Hide yourself somewhere And lock yourself in I'll deal with them Aiden We don't know how many there are I'll handle it Ok E qui direi Che noi Ci vediamo La prossima volta Quindi Grazie per essere rimasti con me E Alla prossima Bye 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 bye